Perfetto, mi sembra non ci siano altri in attesa, quindi possiamo partire. Buongiorno a tutti, benvenuti a questo webinar di presentazione del nuovo rapporto di sostenibilità dell'industria conciaria italiana pubblicato da UNIC, Concili Italiane, l'associazione di categoria dell'industria conciaria nazionale. Si tratta della diciassettesima edizione del report annuale di sostenibilità dell'industria conciaria, il primo report fu pubblicato nel ormai lontano 2003, quindi si tratta di uno studio, di un'analisi che l'associazione porta avanti con costanza e continuità oramai da parecchio tempo, è un'analisi che si è arricchita in questi anni di molti contenuti. Il primo report era un semplice campionamento dei dati ambientali di un campione di concerie italiane, secondo parametri e indicatori abbastanza semplici per l'epoca. Nel corso degli anni lo sforzo dell'associazione è andato in direzione sia di entrare molto spesso maggiormente in profondità sui vari argomenti che compongono la sostenibilità per l'industria conciaria, arricchendo anche di nuovi contenuti, prima in ambito sociale, quindi affiancati a quelli che erano i dati ambientali già rilevati, poi abbiamo ampliato l'orizzonte di analisi anche a altri temi che consideriamo essenziali nel momento in cui si va a valutare il grado appunto di sostenibilità di una conceria al giorno d'oggi. Quindi abbiamo inserito il tema della tracciabilità, abbiamo inserito il tema del benessere animale, recentemente la deforestazione, tenendo sempre viva anche l'attenzione su quello che consideriamo un aspetto fondamentale anche della comunicazione e dell'impegno verso la sostenibilità, vale a dire l'utilizzo di certificazioni volontarie da parte delle concerie, le quali appunto mirano attraverso uno strumento non cogente ma appunto volontario a comunicare ai propri stakeholder, ai clienti, ai partner della propria area di business, quelli che sono i commitment specifici che la conceria ha voluto intraprendere appunto in via volontaria. In questo nuovo report abbiamo voluto mantenere il focus utilizzato nel report dell'anno scorso, vale a dire una correlazione con quelli che sono gli obiettivi di sviluppo sostenibili definiti dall'agenda ONU 2030, li abbiamo declinati in maniera leggermente diversa rispetto all'anno passato ma abbiamo pensato che sia importante in questo momento mantenerci su questo tipo di binari perché sono binari che condividiamo con tutti gli altri operatori economici e non che si vogliono occupare di sostenibilità non esclusivamente nel proprio specifico ambito di applicazione ma anche in termini più ampi quindi anche di correlazione con quelli che sono gli altri aspetti della vita di tutti i giorni. Abbiamo voluto dare un focus nello specifico in questo report su quattro temi diciamo cardine che poi le colleghe vi spiegheranno nel dettaglio. La prima è l'unicità del materiale quindi un'analisi specifica sulle caratteristiche che rendono unica la pelle anche in un'ottica di sostenibilità del materiale. Il secondo punto è lo sviluppo responsabile quindi tutta l'analisi che nello specifico va a analizzare la responsabilità sociale del settore e delle singole imprese quindi anche in termini soprattutto in termini di relazioni sociali e relazioni industriali. Il terzo punto è quello diciamo chiave, insomma il core del rapporto che è l'ambito ambientale. Abbiamo introdotto, abbiamo fatto i nostri quelli che sono gli obiettivi del Green New Deal europeo, li abbiamo declinati come sempre nella realtà del settore conciario italiano dando in questo caso un grande peso all'elemento di circolarità che il nostro settore può presentare ai propri stakeholders di filiera, un esempio che crediamo sia unico non solo all'interno dell'industria conciaria a livello globale ma probabilmente a livello proprio complessivo. Vediamo pochi settori circolari come il settore conciario italiano e poi un focus su quello che è la gestione sostenibile delle materie prime. Una parte infatti consistente della sostenibilità del settore conciario va ricercata nell'origine delle materie prime utilizzate dal settore. Questo è importante da sottolineare perché per noi è essenziale quando parliamo di sostenibilità parlare delle dinamiche di sostenibilità che l'intera filiera riesce a sviluppare per poi arrivare fino al consumatore finale. Quindi pensiamo che sia essenziale quando parliamo di sostenibilità di nostra conciaria andare a sottolineare la necessità di avere uno sforzo e un impegno di collaborazione da parte di tutti gli stakeholders della supply chain. A partire dai fornitori delle nostre materie prime, quindi il fornitore delle pelli grezze e chi a sua volta rifornisce questi fornitori, quindi chi sta in cima alla supply chain, fino ai clienti finali che sono quelli che poi molto spesso veicolano nei confronti delle concerie, essendo poi più a stretto contatto con il pubblico, con la pubblica opinione, con i media, quelle che sono appunto le necessità che il mondo a cui la pelle si rivolge ci veicola come importanti da tenere in considerazione. Io non mi dilungo oltre, vi ricordo un aspetto tecnico, questo è un webinar quindi non vi è la possibilità per i partecipanti di aprire il microfono intervenire, ma per ogni tipo di commento, intervento, domanda, vi pregherei di porla nella sezione DR che vedete in basso nello schermo. Alla fine della presentazione leggeremo le domande e cercheremo di darvi le risposte più opportune. Oggi a presentare il report ci saranno Fabiana Orlandi del Servizio Ambiente Accapitolati dell'Associazione, Maurizia Contu del Servizio Economico di Unis Concerie Italiane e Sabrina Frontini, direttore di Icciuto per la Certificazione della Qualità per Industria Conciaria. Non mi dilungo oltre, faccio partire la presentazione e vi auguro un buon webinar. Grazie Luca. Allora, come già introdotto dal vice direttore, il report di sostenibilità 2020 è un aggiornamento riferito appunto all'anno di riferimento 2019, ma non solo, di quello che sono stati gli avanzamenti sia in termini di indicatori, ma anche in termini di attività della conceria italiana, inteso ovviamente nel suo complesso, basandoci poi sui dati per quello che è un campione consolidato, che per il 2020 è di una ventina di aziende, per quanto riguarda in particolare gli indicatori di impatto. Come è già stato anticipato, il report 2020 prevede una riorganizzazione in termini di sezioni, rispetto all'ultimo report del 2019, di cui comunque il report 2020 costituisce un continuum, non tanto e non solo in termini di, diciamo, filosofia, di approccio, ovvero con il raffronto e il raccordo con quelli che sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda ONU 2030, ma anche in particolare proprio come proseguio del racconto, dello storytelling relativo alla sostenibilità italiana, per cui molte tematiche sono state aggiornate in questo documento, che vedrete anche in forma un po' più compatta rispetto allo scorso, ma non di fatto non riprese con l'approfondimento già avuto nel report dello scorso anno. Entrando un po' nel merito di quelli che sono le tematiche, abbiamo deciso quest'anno di partire proprio dal materiale, cioè parlare di sostenibilità della conceria italiana parlando innanzitutto di pelle, di pelle intesa come materiale, spiegando che cos'è la pelle, che cosa la pelle non è, approfittando anche di alcuni aggiornamenti normativi che quest'anno sono subentrati. Il materiale e un po' anche la trattazione che ne abbiamo fatto si ricollega in termini anche di utilizzo primario per beni di consumo, ma anche per il fatto di essere di fatto portatore degli interessi di una molteplicità di stakeholder sia all'interno della supply chain, ma anche arrivando fino a livello di territori, consumatore e quant'altro, a questo tema fanno capo due importanti goal dell'agenda 2030. Il primo che parla di salute e benessere, ovviamente parliamo di un materiale destinato ad articoli di consumo e quindi è di prioritaria importanza che questo materiale sia salubre e possa garantire anche la salute e la sicurezza dei consumatori, sia in termini come vedremo anche di solidarietà e di uniformità anche di intenti e di azioni all'interno di quelli che possono, nell'ambito di tutti i portatori di interesse, perché come di fatto sancisce anche l'agenda 2030 dell'ONU con l'obiettivo numero 17 che è l'ultimo e che sta un po' anche a corredo poi di tutti gli altri, di fatto questi obiettivi non si possono raggiungere da soli, ma solo con azioni sinergiche portate avanti anche in correlazione con tutti gli attori. Quindi in questa prima sezione noi ci siamo posti la domanda e abbiamo risposto, cercato di dare indicazioni ed evidenze per poter rispondere alla domanda che cos'è pelle e innanzitutto l'abbiamo fatto dando tre numeri perché ci siamo resi conto che non è così chiaro né a livello di consumo, di consumatore finale, ma tantomeno anche a livello di operatori di settore che cosa effettivamente è la pelle, qual è la sua vera natura, che è importante conoscere perché da questa natura poi si possono capire anche tutti quelli che sono i correlati aspetti ambientali, economici, sociali, etici. Che cos'è la pelle? Allora la pelle intanto è un materiale naturale, quindi può freggiarsi tranquillamente e semplicemente di un 100% bio origin, per esempio. È 100% rinnovabile perché l'allevamento, così come la coltivazione delle foreste, corrisponde assolutamente ai criteri di rinnovabilità e per il 99,5% è anche un materiale di recupero. Quindi di fatto la conceria italiana che utilizza pelli bovine, caprine, suine e quant'altro, di fatto ha già più che superato quello che è anche l'obiettivo di utilizzo minimo di materiale recuperato che hanno molti settori industriali perché utilizza la quasi totalità di materiali di recupero. Quella percentuale dello 0,5% che vedete mancare alla totalità del 100% è solo correlata al fatto che ci sono alcune materie prime che non sempre possono freggiarsi dell'appellativo di byproduct. Pensiamo per esempio, anche se non esclusivamente, a quelle che sono le pelli esotiche. Andiamo quindi a vedere che cos'è la pelle e da questo punto di vista ci viene in forte sostegno quello che è un decreto molto importante che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale quest'anno e che tra l'altro è da un mese, un mese e mezzo entrato in vigore, che è il decreto 68, il decreto legislativo 68 del 2000, che va a riprendere un po' quelle che sono anche le definizioni di pelle che erano contenute nella direttiva 94-11. Quindi di fatto va a definire quello che è la pelle esclusivamente come un materiale in cui la struttura originaria che la pelle aveva nell'origine sull'animale vivo si mantiene inalterata, pur essendo conciata, addittivata da prodotti chimici e quant'altro e quindi può freggiarsi di questo appellativo solo il materiale che mantiene inalterata la struttura originaria del pellame. Ad esempio se questo materiale viene anche solo sminuzzato meccanicamente, quindi senza avere, subire tutta un'altra serie di processi chimici, non può più chiamarsi come pelle perché la struttura tridimensionale originaria non è più mantenuta integra. Questo è importante perché questa struttura è quella che conferisce di fatto al pellame tutta una serie di caratteristiche anche prestazionali ma che lo rendono di fatto anche una materia prima unica per i manufatti in pelle di cui altri materiali che magari scopiazzano un po' la terminologia o si freggiano del fatto di essere potenziali succedani di questo tipo di materiale e magari anche più virgolettato ecologici, in realtà questa terminologia ci dice che sono altri materiali con altre caratteristiche, con altre performance che non possono di fatto essere accostate alla pelle. Entrando un pochino più nel merito del decreto perché capire bene ciò di cui si sta parlando anche in termini terminologici è molto importante, passo la parola alla collega Maurizia che è la persona che poi di fatto si è anche occupata di seguire tutto l'iter legislativo del decreto. Grazie Fabiana, come hai detto tu questo decreto legislativo è un po' la novità importante di questo 2020 perché dopo tanti anni in cui siamo stati impegnati come associazione nella sensibilizzazione a supporto della trasparenza nel mercato finalmente è arrivato questo che risulta come un riconoscimento di quello che già da tempo noi sostenevamo e cioè che la trasparenza, comunicare in modo trasparente sia fondamentale per dare al consumatore tutte quelle informazioni che sono poi alla base di quella che è la scelta commerciale, cioè le informazioni che guidano poi la decisione dell'acquisto. Per questo motivo è importante che quando si parli di pelle si sappia esattamente di cosa si sta parlando e che il termine venga utilizzato solo ed esclusivamente per i materiali che hanno le caratteristiche che tu hai già descritto. Quindi le caratteristiche chiave nell'ambito del nostro settore possono essere quantomeno l'origine animale, quindi l'origine naturale del materiale e la sua struttura fibrosa originaria che sia mantenuta integra. Questo è l'aspetto chiave. Quindi dal 24 ottobre in vigore questo decreto che di fatto sancisce un importante divieto, cioè che con l'articolo 3 che vediamo in questa slide sia assolutamente vietata l'immissione e la commercializzazione anche in lingue diverse dall'italiano, quindi non soltanto cuoio, pelle, ma leather, queer e tutte le varie traduzioni di lingue che ormai sono diventate un po' linguaggio conosciuto per il consumatore, sia come aggettivi sia come sostantivi, io sto citando l'articolo proprio per spiegare esattamente qual è la portata di questa novità, oppure inseriti come prefissi o suffissi in combinazione con altri termini e questo ci porta un po' al ritrovarci in quel fenomeno di proliferazione terminologica e di nomi, definizioni variegate che abbiamo visto in questi ultimi anni. Quindi partiamo dagli ecopelle, partiamo da quello, arriviamo ai più recenti vegan, nappa, vegan leather, tutte queste varianti che vengono utilizzate per definire altri materiali, richiamando comunque l'uso della terminologia. Quindi non è soltanto importante capirne la definizione, ma è importante abbinare a questa definizione anche il divieto di utilizzo di questi termini per altri materiali. Per quale motivo è importante? Perché questo ci aiuterà a contrastare finalmente la diffusione di tutta questa terminologia così variegata e sempre in continuo aggiornamento che danneggia il consumatore prima di tutto perché abbiamo stabilito che le decisioni di acquisto si basano su informazioni certe e soprattutto chiaramente danneggia il mercato, danneggia la concorrenza. In questo caso abbiamo anche citato una norma unica, la 11427, che ci stabilisce, che ci dice quali sono le vere ecopelli. La vera ecopelle è una pelle autentica, conciata con un basso impatto ambientale e la norma stabilisce proprio questi parametri di processo e di prodotto che devono essere rispettati affinché si possa utilizzare questa definizione nell'ambito di una pelle. Voi vedete qui anche un logo, questo logo viene rilasciato sulla base di una certificazione. La cosa importante qua è capire che tutelare la corretta terminologia significa anche tutelare il mercato. e proprio parlando di azioni di tutela, affiancata a questa azione sulla tutela della terminologia della trasparenza, c'è anche tutta l'azione di comunicazione fatta da Unic tramite la campagna lanciata nel 2019. Nella prossima slide vediamo appunto quali sono gli elementi chiave di questa campagna di comunicazione. In particolare gli obiettivi erano comunicare il vero valore della pelle, stabilito che appunto da una definizione di un materiale derivano determinate proprietà e quindi quali sono queste proprietà? Sono proprietà che compongono il vero valore del materiale di cui stiamo parlando. Sostenere la pil della pelle, quindi informando il consumatore di tutte le vere proprietà del materiale si sostiene anche l'immagine e l'attrattività del materiale e finalmente promuovere anche la trasparenza nei claim di sostenibilità perché proprio collegati all'utilizzo improprio di terminologie richiamanti il green, l'ecologico, l'environmental friendly si rischia di diffondere al mercato dei claim di sostenibilità che non hanno di fatto sostanza o contenuto. Quindi questo è uno dei nostri obiettivi principali. Quindi far capire che la pelle è anche legata fortemente a un'idea di sostenibilità e che quindi ci vuole trasparenza nella comunicazione di tutti quelli che sono anche i claim e le varie proprietà che rendono il materiale sostenibile. Quindi questo è un po' quello che si fa a sostegno sia del consumatore e contemporaneamente di una corretta concorrenza nell'ambito del mercato. Ecco grazie Maurizia, parlando di mercato abbiamo naturalmente traghettato verso la seconda sezione del report che è dedicata alla crescita e allo sviluppo responsabile o meglio al ruolo, quindi al contributo della conceria italiana in questo ambito. Sono tre gli obiettivi, i target dell'agenda 2030 che vengono in un qualche modo toccati e su cui si va poi ad interagire quando parliamo di crescita e sviluppo responsabile legato all'attività conciare ovviamente l'obiettivo numero 8 dove si parla di lavoro dignitoso e di crescita economica obiettivo naturalmente correlato di fatto a un'attività produttiva ma è anche importante ricordare che andiamo anche ad impattare non solo negativamente ma anche positivamente su altri due importanti target che sono il primo, quello della lotta di fatto contro la povertà una parte degli approvvigionamenti arrivano anche da paesi in via di sviluppo e come ricordavamo nel report del 2019 l'attività conciare, quindi la lavorazione della pelle o in ogni caso l'allevamento è comunque un'attività assolutamente rilevante e fondamentale per lo sviluppo economico dei paesi in via di sviluppo e anche altrettanto importante un'attenzione in particolare si chiamava anche prima in ambito comunicazione corretta informazione dei consumatori ma è anche importante poi e tra poco lo vediamo anche la corretta informazione dei giovani le attività di formazione anche relative proprio alla trasmissione poi di quelle che sono anche le corrette informazioni relative al materiale si parla di crescita e sviluppo responsabile quindi il primo focus che in questa sezione viene fatto è di fatto un richiamo ed una panoramica a quelli che sono i dati economici Sì, grazie Fabiana, questo è un po' il mio pane e noi diciamo uno dei messaggi che si lanciano poi in questa sezione è l'industria conciaria e valore e quali migliori i dati da guardare se non questi quando si parla di valore dell'industria conciaria italiana qui abbiamo i consueti dati di fatturato annuale del settore che è storicamente intorno alla cifra dei 5 miliardi è arrivata ai 4,6 miliardi con i cali congiunturali che abbiamo avuto già a partire dal 2019 un export sempre molto rilevante che conta per oltre il 70% del fatturato totale e come vediamo nel riquadro più piccolo vediamo quanto sia forte il ruolo dell'industria conciaria italiana nell'ambito internazionale ci sono proprio dei primati che ormai comunichiamo da tanto tempo e che ormai sono diventati comunque molto conosciuti anche dagli altri operatori della filiera l'industria conciaria italiana con questo suo valore di fatturato annuale rappresenta il 65% del valore della produzione a livello europeo e addirittura il 23% a livello mondiale sono valori estremamente significativi se pensiamo a quali sono gli altri importanti player globali con i quali ci confrontiamo cioè ricordiamo che esistono in questa classifica globale la Cina, il Brasile e tutti i big dell'extra way che producono pelle chiaramente questo ci dà l'idea di quanto sia di quanto sia forte il valore aggiunto della pelle italiana parlando di settore arriviamo non soltanto a parlare di valori ma anche di persone quindi non dimentichiamoci che nell'ambito del settore conciario abbiamo circa 1200 imprese che danno lavoro a circa 18.000 addetti e su questo è importante poi dare un quadro anche sui dati occupazionali che sono molto molto importanti infatti tra l'altro il settore anche in questo momento di congiuntura economica definiamola non felice giusto per usare un eufemismo il dato relativo alla contrazione occupazionale è di fatto quello che ha subito il ribasso minore perché rispetto poi alla contrazione di fatturato e soprattutto anche alla contrazione di produzione vediamo come di fatto il settore comunque ha puntato e ha tenuto a mantenere quelle che sono le proprie risorse umane perché di fatto sono un capitale per la conceria sono un capitale nel settore conciario che si configura quant'anche industrializzato in alcuni suoi aspetti anche in maniera molto spinta però rimane di fatto un settore a forte matrice artigianale in cui il saper fare in cui le capacità le professionalità dei propri operatori incidono fortemente anche poi su quella che è la qualità del prodotto finito pochi dati per darvi poi quello che è un inquadramento un po' una caratterizzazione della risorsa umana all'interno del settore è un settore in cui come dire la gender equity è ancora un po' lontana nel senso che comunque proprio anche per la tipologia di attività soprattutto con una forte predominanza di mansioni tecnico-pratiche che si attestano intorno all'80% del totale della forza lavoro l'occupazione femminile è più o meno un quinto del totale in leggera contrazione tra l'altro rispetto al 2019 significativa anche la quota parte di lavoratori di origine straniera tra l'altro in lieve aumento quest'anno rispetto allo scorso anno di rilevazione però come si diceva prima ma molto importante la tenuta manifestata dal settore per l'occupazione questo lo si vede anche nel dato relativo all'inquadramento contrattuale a tempo indeterminato per cui 9 lavoratori su 10 comunque sono occupati a tempo indeterminato nel settore e anche poi all'importanza la copertura data anche poi a livello dei contratti di secondo livello che alla fine coprono il 75% dell'azienda comunque nel complesso a parte qualche piccolo segnale di variazione che come si rilevava anche per la parte economica è già partito nel 2019 poi vedremo come andrà a consuntivarsi nel 2020 la struttura si mantiene di fatto stabile come stabile è anche il quadro relativo agli infortuni mentre il quadro occupazionale lo delineiamo a partire dai campioni di azienda il quadro degli infortuni ci viene dato di fatto a livello globale nazionale da parte dell'Ina e anche qui vediamo che il quadro si mantiene stabile tra l'altro per un caso fortuito stesso numero identico di infortuni rispetto allo scorso anno seppur con alcune variabilità vediamo in leggero aumento l'incidenza degli infortuni in itinere che comunque è un dato significativo perché sostanzialmente va a dare l'indicazione che un infortunio su tre di fatto non è venuto in occasione di lavoro le aziende comunque stanno lavorando in miglioramento anche il dato relativo alle malattie professionali che vede un deciso calo di malattie riconosciute anche se con un aumento di incidenza delle patologie di fatto muscoloscheletriche con una quasi scomparsa poi di tutta un'altra serie di patologie che fino a qualche anno fa caratterizzavano magari il quadro delle malattie professionali del settore questo anche ad evidenza del continuo impegno della continua attenzione delle aziende conciare su questo tema anche poi grazie all'attività di formazione e sensibilizzazione dei lavoratori che comunque si succedono tutti gli anni ultimo tema diciamo dedicato a questa sezione di sviluppo responsabile ma molto importante anche perché si va a collegare al terzo SDGs che abbiamo visto all'inizio riguarda quelle che sono le iniziative a favore della collettività in particolare dei giovani ovviamente le imprese del settore essendo poi prevalentemente concentrate anche in distretti produttivi hanno un rapporto di interdipendenza con le comunità locali che è molto forte molto forte perché le concerie sono soggetti attivi che contribuiscono al benessere economico delle comunità in cui sono inserite ma ovviamente poi dipendono da queste comunità sia in termini di servizi di competitività anche di manodopere e quant'altro le aziende contestualizzate in distretti produttivi hanno anche delle agevolazioni proprio anche in termini di sviluppo economico e come vedremo anche magari anche in termini di possibile circolarità dei propri processi queste iniziative quindi questo rapporto stretto rapporto con i territori poi da parte del settore conciaro italiano è anche se vogliamo amplificato ed enfatizzato poi da tutte quelle che sono le azioni che come dire per loro mandato le associazioni di categoria poi svolgono anche a favore di altri portatori di interesse allargando veramente molto quello che è il target poi delle azioni a favore della comunità che il settore svolge in particolare in ambito culturale anche a tutela dell'eritage qui nel report troverete citati poi tutta una serie di interventi vi cito solo il restauro ad esempio della della concilia di Pompei ma anche il restauro di di molte opere d'arte in pelle che negli anni e soprattutto negli ultimi anni si è portato avanti si parlava di giovani si parlava di formazione quindi di fatto la promozione della pelle va a coinvolgere il passato il presente e anche il futuro quindi investendo poi su quelle che sono le conoscenze dei nostri giovani qua vedete dei numeri e sono numeri di un impegno non da poco quindi si parla di formazione dei giovani che va veramente a prendere tutti i livelli di istruzione dalle media alle superiori agli istituti universitari e quant'altro e anche molto importante la formazione nella filiera terza sezione e cor della sì Fabiana scusa un secondo faccio una una piccola parentesi che in realtà è una puntualizzazione su alcuni dati che abbiamo visto prima vi vado a rivedere ecco il quadro economico ci teniamo a sottolineare questo è il quadro economico relativo ai ultimi dati annuali completi disponibili quindi sono i dati del 2019 i cali che vedete tra parentesi sono i cali registrati nel 2019 rispetto al 2018 è importante sottolinearlo perché come giustamente hai detto anche tu Fabiana l'anno corrente è un anno estremamente particolare e purtroppo i ribassi registrati dal settore conciario in Italia ma anche all'estero e non solo dal settore conciario ma molto spesso da intere filiere soprattutto quelle della moda sono cali ben più pesanti di quelli che abbiamo visto prego ok grazie passo velocemente alla terza sezione che è la sezione come dire più più corposa e anche più come dire più abitata più interconnessa se vogliamo con quelli che sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile soprattutto per quanto riguarda la parte ambientale uno su tutti il goal 12 che riguarda il consumo e la produzione responsabile che tra l'altro ha anche una grafica che richiama di fatto l'economia circolare economia circolare che noi in quest'anno abbiamo voluto impegno e modello circolare della concerta italiana che noi in quest'anno abbiamo voluto fortemente correlare anche con gli obiettivi e la strategia delineata dal grigno di l'europeo che come sapete nel 2020 di fatto è entrato anche in una sua fase operativa cosa si prefigge il New Deal come scopo? Si prefigge la decarbonizzazione dell'Europa entro il 2050 ma gli obiettivi che si prefigge non sono relativi solamente alla decarbonizzazione stabilisce anche tutta una serie di percorsi virtuosi per arrivare a questa decarbonizzazione e uno dei modelli che di fatto sono incentivati e che sono promossi e caldamente promossi è quello dell'economia circolare il modello dell'economia circolare della conceria italiana ha diversi elementi di circolarità questo è un po' il grafico che avevate anche lo scorso anno quindi di fatto recupera uno scarto dell'industria alimentare produce a sua volta scarti che possono diventare materie prime per altre filiere di lavorazione eccetera possiamo passare alla prossima anche a quella dopo così tagliamo un po' ecco tre elementi per essere anche molto sintetici tre elementi che vanno poi a caratterizzare quello che è il modello circolare della conceria italiana il primo la base per un modello di sviluppo sostenibile che si basi sull'economia circolare è la riduzione delle risorse quindi innanzitutto bisogna sviluppare dei sistemi che consumino meno in quest'ambito puoi dire nel tempo già dagli anni di rilevazione l'impegno della conceria italiana emerge con chiarezza e anche direi con forza vedete i trend degli indicatori principali che riguardano il consumo di prodotti chimici consumi energetici e consumi di acqua che sono ovviamente consultivi a partire dall'anno di rilevazione e nella prima maschera vedete quelli che sono invece gli indicatori riferiti a metro quadro o mille metri quadri nel caso di TEP delle pelli una premessa importante è che questi indicatori non sono un benchmark nel senso che questi indicatori sono una valutazione che noi facciamo sulle aziende del campione che coprono in maniera direi molto rappresentativa tutte le tipologie produttive quindi partendo da grezzo partendo da semilavorato diverse materie prime utilizzate e quindi sono di fatto un benchmark riferito al campione quindi aziende che produrranno da semilavorato in poi avranno valori di indicatori più bassi le aziende che partono da grezzo vanno ovviamente valori di indicatori pur anche efficienti in termini di sviluppo delle risorse leggermente più elevati questo per quanto riguarda i consumi si diceva prima materie prime scarti di pelle e anche molti chemicals sono prodotti a partire da by product di altre filiere sono esempio gli ingrassi tannini e quant'altro secondo elemento dell'economia circolare scarti e rifiuti la gran parte degli scarti una buona parte degli scarti prodotti soprattutto fino alla fase di concia prima della fase di concia non si configurano nemmeno come rifiuti si configurano come sottoprodotti di origine animale e come tali sono valorizzati ad esempio per la produzione di fertilizzati biostimolanti gelatine ed altre materie prime per altre filiere e anche i rifiuti quindi post concia gli scarti che sono prodotti che si configurano come rifiuti comunque vengono recuperati da parte i tre quarti dei rifiuti prodotti prendono comunque la via di un ciclo di recupero che consenta alla fine di reimmettere in questo ciclo virtuale di economia circolare una parte di materia e di materiali indicatore di produzione di consumo in miglioramento nel 2019 rispetto al 2018 che riportava un valore medio del campione pari a 1,75 kg su metro quadro terzo elemento dell'economia circolare è la durabilità non so che di voi abbia già avuto modo di entrare nel merito del Circulation Plan dell'Unione ma di fatto il modello circolare prevede quindi una riduzione del consumo delle risorse la minore produzione di scarti destinati allo smaltimento finché il materiale si mantiene nel ciclo di processo per la propria produzione e il mantenimento dell'articolo del prodotto il più a lungo possibile all'interno di un ciclo di consumo la pelle di fatto corrisponde pienamente a questi criteri perché è un materiale durevole è un materiale riutilizzabile non è un materiale usegetta conferisce ai manufatti la possibilità di un upgrading nel senso che comunque da valore aggiunto abbiamo già detto prima da valore aggiunto da qualità da prestigio ai manufatti i manufatti realizzati in pelle sono riparabili e sono anche passibili di una facile manutenzione può anche non essere un caso il fatto che in questo periodo di covid di maggior utilizzo anche degli imbottiti per esempio nelle abitazioni domestiche si è aumentato il consumo di divani in pelle rispetto a divani in altre tipologie di materiali di fatto queste sono un po' tutte caratteristiche che collocano la pelle come materiale di fatto elettivo anche all'interno dell'action plan sulla circular economy della comunità europea due numeri giusto per chiudere il quadro ambientale ciclo dell'acqua l'acqua in conceria non viene propriamente consumata diciamo che viene utilizzata il 93% di quest'acqua che viene approvvigionata da pozio da coedotti industriali poi viene restituito all'ambiente ovviamente deve essere depurata perché le caratteristiche qualitative dell'acqua durante il processo conciario vengono alterate in questo ci aiuta in un ambientico come quello dei distretti il ruolo fondamentale importante dato dai depuratori consortivi che consentono come vedete di raggiungere dei livelli di abbattimento assolutamente elevati e di primaria eccellenza ultimo dato che ci porta anche a chiudere un po' il quadro degli SDGs sulla parte se vogliamo di climate change e di emissioni in atmosfera vedete quelli che sono gli indicatori riferiti alla produzione di un metro quadro di pellame quindi ci si attesta poco meno di 2 kg equivalenti di CO2 kg equivalenti calcolati sul consumo energetico e per quanto riguarda le emissioni settoriali il dato significativo al momento è l'emissione di solventi in particolare per le attività di rifinizione anche questo parametro è in fortissimo miglioramento nel corso delle rilevazioni annuali cosa ha fatto la conceria per migliorare il proprio impatto sulle emissioni in atmosfera efficientamento dei processi anche attraverso impianti di cogenerazione ad alta efficienza che nel 2019 coprono l'11% dell'energia utilizzata scusateci un errore ortografico il ricorso a energia elettrica green ad esempio stabilendo accordi contratti con fornitori di energia che possono assicurare un'elevata quota parte di energia rinnovabile piuttosto che anche andare a compensare quella parte di emissioni equivalenti che comunque rimangono residuali magari per la quota parte di energia termica anche con l'acquisto di certificati di anidride carbonica equivalente o comunque di carbon certificates che consentono poi di compensare attraverso delle iniziative a favore dell'ambiente quelle che sono le emissioni di CO2 emesse ultima sezione importante perché andiamo ad affrontare poi in questa sezione abbiamo raccolto un po' tutti quelli che sono gli aspetti più rilevanti per quanto riguarda la parte etica correlata a due SDGs l'undici che è quello relativo alla alle città e alla crescita è sostenibile qua più che altro relativo al ruolo dell'allevamento in particolare di alcune tipologie di allevamento anche nei paesi in via di sviluppo e soprattutto per lo sviluppo rurale e di alcune culture nei paesi e altro importante il 15 perché si parla di fatto va a correlare quello che è l'allevamento e quello che è l'approvvigionamento della materia prima delle concerie con quello che è la gestione sostenibile anche degli ecosistemi quindi quando parliamo di gestione sostenibile essenzialmente l'elemento rilevante di cui parliamo è proprio la tracciabilità la tracciabilità delle materie prime garantire dunque che le materie prime provengano da fonti da fonti sostenibili questo cosa vuol dire vuol dire avere in generale un controllo elevato sulla propria filiera a monte ed è per la conceria una priorità strategica perché sono sempre più numerose le richieste chiaramente di garanzie sugli approvvigionamenti e come è stato detto proprio all'inizio è proprio in questo aspetto che è necessario quello sforzo congiunto di tutti gli stakeholder della filiera perché noi non dobbiamo mai dimenticare che la pelle per la sua particolare natura di sottoprodotto è inserita all'interno di una filiera dove esistono delle informazioni a monte che devono essere in qualche modo trasferite agli operatori per appunto dare quelle informazioni rilevanti che sono richieste nell'ambito appunto delle garanzie sugli approvvigionamenti per questo motivo rilevante non soltanto mi viene in mente qua i due obiettivi che hai citato tu Fabiana ma chiaramente anche le partnership strategiche e le SDG che abbiamo citato prima che è quel obiettivo diciamo conclusivo dell'agenda ONU ma che poi è un po' una guida di tutti gli obiettivi nel concreto quali sono poi le azioni del settore in questo ambito sono molteplici qua ne citiamo alcune in particolare il progetto Traceability of Sustainable Value Change è un progetto guidato dall'UNECE che è l'agenzia per la cooperazione economica delle Nazioni Unite e questo progetto è un progetto molto ambizioso è un progetto multi stakeholder quindi che coinvolge tanti attori chiavi nella filiera e qual è l'obiettivo quello di definire degli elementi base di questo modello di tracciabilità della filiera moda per poi appunto sostenere questa diffusione di un modello di consumo più responsabile più sostenibile la cosa importante è che a questo progetto sta arrivando ad una fase chiave per il settore conciare un progetto che è iniziato già da più di un anno e si sta definendo il modello di tracciabilità per la pelle ma soprattutto si stanno definendo quelli che saranno gli elementi del progetto pilota che riguarderà il nostro settore e che poi saranno diciamo la linea guida per l'implementazione di questo modello di tracciabilità della pelle un altro progetto molto importante quando si parla di tracciabilità è quello legato alla lotta alla deforestazione e alla conversione del suolo la deforestazione è un fenomeno che negli ultimi anni nei tempi più recenti diciamo è un po' al centro di dibattiti di vario genere l'industria conciaria non è responsabile della deforestazione ma da molti è considerata corresponsabile perché normalmente la deforestazione la conversione del suolo è legata soprattutto alle attività agricole quindi alle attività di vario genere che poi vengono convertite in attività legate anche all'allevamento questo progetto che è nato dalla collaborazione tra UNIC ICHEC e questa ONG statunitense la National Wildlife Federation ha l'obiettivo di garantire appunto la provenienza delle pelli da fonti non correlate ad aree deforestate è iniziato con il Brasile che è diciamo il primo paese interessato da questo fenomeno quello più diciamo più conosciuto nell'ambito del fenomeno della deforestazione ma si sta estendendo ad altre aree rilevanti di approvvigionamento per il settore conciario qual è l'importanza appunto della tracciabilità che la tracciabilità è appunto un mezzo per garantire il rispetto di determinati requisiti abbiamo parlato di deforestazione adesso parliamo dell'altro obiettivo etico che ormai è diventato al centro dell'interesse in molti settori il benessere animale nella nostra filiera il benessere animale è sempre più una garanzia richiesta da parte soprattutto dei clienti e l'impegno del settore risale a molto tempo fa è già da molto tempo che il settore conciario ha promosso questo manifesto a supporto del benessere animale che si ispirava alle cinque libertà i principi fondamentali dell'OIE per procedere in diciamo più concretamente su questo fronte già da più di un anno collaboriamo con l'Università degli Studi di Milano in particolare con il Dipartimento di Medicina Veterinaria per arrivare ad una mappatura delle condizioni di benessere animale nei principali mercati di approvvigionamento quello che è importante qui è l'utilizzo di un punto di vista scientifico perché su questo ambito circolano molte fake news molte voci assolutamente false e questo progetto di collaborazione si è concluso recentemente con l'elaborazione di un report riassuntivo delle principali caratteristiche del benessere animale nei tre ambiti chiave che sono l'allevamento il trasporto il macello qua vediamo la mappa della legislazione che è stata analizzata da questo report come vedete c'è l'Europa ma ci sono anche altre aree importanti gli Stati Uniti Sud America l'Oceania alcuni mercati chiave nell'Asia e nell'Africa e il report si conclude con anche un confronto dei principali sistemi di allevamento con le caratteristiche e le criticità legate al benessere animale in ognuno di questi tre principali sistemi di allevamento bene da questa mappatura diciamo scientifica delle condizioni di benessere animale si può dire che il settore conciario italiano per come è creata per come è composta diciamo la mappatura degli approvvigionamenti principalmente da aree che sono coperte da normative rilevanti in tutti e tre gli ambiti che abbiamo citato può comunque fornire elevate garanzie alla sua filiera di riferimento tutti questi aspetti che ho citato nell'ambito della tracciabilità della deforestazione e del benessere animale sono collegati a certificazioni volontarie e per questo abbiamo abbiamo chiesto a ICEC di illustrare un pochino meglio quali sono gli elementi di queste certificazioni grazie Maurizia prendo la parola ringrazio per questa possibilità di parlare nel report anche delle certificazioni che senz'altro sono un tema molto interessante e perché ovviamente è applicato da moltissime aziende del settore conciario di tutta la fila ICEC è un istituto conosciuto nel settore della pelle siamo operativi da più di 25 anni quindi non mi dilungherei in presentazioni direi sottolineerei che operiamo secondo standard nazionali europei o internazionali ma anche secondo standard privati perché ricordiamoci che in molti casi a seconda delle necessità del settore magari degli standard normativi non ci sono e quindi c'è la necessità di procedere con degli standard privati quindi questo è stato per esempio il caso del codice di condotta piuttosto che degli schemi di tracciabilità su cui daremo qualche aggiornamento a breve chiaramente tutti questi schemi sono stati importanti per favorire la qualifica di tutta la filiera non soltanto delle concerie ma anche dei tersisti dei manifatturieri sui temi della sostenibilità fare questa attività di certificazione non è per niente semplice anche perché ci sono molti competitor e moltissimi schemi che si possono adottare per noi è importante essere accreditati per poter garantire di fare questa attività nel modo migliore possibile soprattutto garantendo alcuni principi che sono quelli della competenza dell'imparzialità dell'assenza di conflitti di interesse ma anche soprattutto della riservatezza delle informazioni che noi andiamo a verificare perché quando facciamo certificazione lo facciamo in modo indipendente chiaramente tutto quello che visioniamo rimane assolutamente riservato e non viene mai trasmesso ecco in questo panorama della certificazione è importante dire che chiaramente tutti sono attenti a quelli che sono i prodotti acquistati quindi sia in termini di prodotti finiti i consumatori ma anche i brand che vanno ad acquistare dei pellami sono attenti ai contenuti non soltanto in termini di stile e di qualità che caratterizzano il settore italiano ma anche in termini di ecologia di aspetti e tipo sociali anche di aspetti di origine ecco perché è molto importante tracciare quello che avviene per le materie prime a monte della conceria ma anche all'interno della conceria stessa quindi tenere la tracciabilità nei propri processi produttivi chiaramente poi tutte queste cose che devono essere comunicate è bene farlo attraverso delle certificazioni perché il percorso che tutti hanno fatto è partire dalle autodichiarazioni quindi da una comunicazione autodichiarata e però col tempo anche giustamente grazie alla crescita alla cultura di tutta la supply chain ha perso valore e credibilità questa autodichiarazione questa comunicazione solo autodichiarata e non verificata chiaramente la certificazione volontaria e di terzo tipo è uno strumento fondamentale che può servire per promuovere l'azienda gestire i rischi ed avere tutti i conseguenti benefici economici organizzativi chiaramente attraverso le attività di validazione che la certificazione stessa offre fate queste premesse sulla certificazione ora dato che se ne parla nel report daremo alcuni aggiornamenti sugli aspetti della tracciabilità che è sicuramente uno degli schemi più richiesti e quindi molto applicato è uno schema specifico di prodotto quindi ci sono sempre degli articoli che vengono sottoposti alla certificazione non è una certificazione quindi di sistema e quando parliamo di tracciabilità intendiamo in questo caso la tracciabilità delle materie prime grezze oppure semilavorate che vengono acquistate andando a mappare in modo molto accurato e soprattutto verificabile tutte quelle che sono le informazioni disponibili sui luoghi e sui paesi di origine quindi sui macelli e di allevamento di tutti quelli che sono gli animali da cui provengono le pelli vorrei dare in questo ambito un paio di definizioni perché quando si parla di tracciabilità spesso non è chiaro cosa si intende per origine della pelle e per origine dobbiamo intendere dove l'animale viene abbattuto quindi dove fisicamente si genera la pelle grezza quindi per noi è dove ci sono effettivamente i macelli dove avviene la macellazione per paesi e per luoghi nei nostri sistemi di tracciabilità intendiamo rispettivamente per paese le nazioni e per luoghi quando andiamo a mappare le informazioni sui luoghi raccogliamo le ragioni sociali delle aziende quindi se ci sono i nomi dei macelli e degli allevamenti i nostri schemi di certificazione e-check che sono il TS 410 e 412 sono molto robusti e si basano su dei principi molto solidi che sono per esempio il fatto che noi non accettiamo delle autodichiarazioni quando facciamo questa certificazione ma chiediamo che tutte le informazioni siano documentate e verificabili documentate significa che devono essere prodotte dalla filiera e sono diciamo quindi relative per esempio a dei documenti di tipo sanitario documenti commerciali quindi tutto quello che noi verifichiamo non può mai essere solo autodichiarato questa certificazione è annuale e si sviluppa anche andando a raccogliere a valutare tutti gli ordini di acquisto in 12 mesi di tutto ciò che viene acquistato in 12 mesi rispetto agli articoli che si vogliono certificare vengono sempre controllati gli adempimenti legislativi di prodotto a questa certificazione si applicano anche dei requisiti di sistema quindi non è soltanto questione di compilare delle mappature di ordini ma anche adottare delle procedure che servono a garantire l'efficacia di tutta la qualifica dei propri fornitori durante tutto l'anno e anche la tracciabilità interna alla conceria inoltre come detto inizialmente garantiamo sempre la riservatezza dei dati e delle informazioni visionate quindi noi non andremo mai a comunicare come i-check a quelli che sono i clienti quelle che sono le informazioni che sono e inoltre ovviamente non facciamo blacklist perché non sta a noi giudicare se determinati paesi di origine sono meglio di altri sicuramente però questi schemi avranno degli sviluppi come è stato anticipato dalla collega ci sono stati degli studi condotti con l'università veterinaria per cui sicuramente noi in futuro andremo ad integrare la gestione di questi schemi con anche delle informazioni che derivano dalla mappatura delle leggi applicabili in ciascuna zona geografica e che riguardano per esempio l'animal welfare o la deforestazione per dare poi delle schede prodotte alle nostre concerie che applicheranno questa certificazione per consentire alle concerie di avere informazioni integrative e per gestire meglio i loro rischi la tracciabilità ha diverse varianti varianti perché quando andiamo a tracciare delle pelli innanzitutto possiamo avere delle pelli grezze dei sedi lavorati ma soprattutto le tipologie di animali che possiamo andare a mappare possono essere anche molto diverse e quindi nei nostri schemi ci sono piccole varianti tecniche che ci consentono di affrontare qualsiasi tipologia di prodotto che noi vogliamo certificare ricordiamo le principali noi possiamo mappare sia le pelli provenienti da animali che sono allevati e quindi dove ci sarà una farma dei nomi delle farma di allevamento possiamo andare a mappare e tracciare pelli da animali wild quindi sono catturate allo stato grado perciò non ci sarà un nome di una farma ma una zona di cattura possiamo andare a mappare e tracciare le croste quindi con l'inserimento di alcuni dati aggiuntivi sul dove viene realizzata una crosta e in quale stadio produttivo e poi infine abbiamo il progetto di CFL Leather che riguarda nello specifico le pelli di origine Sud America in particolare il Brasile su cui abbiamo anche già delle certificazioni conseguite proprio in quest'ultimo caso per la tracciabilità delle pelli di CFL Leather che vuol dire Deforestation and Conversion Free Leather noi abbiamo mantenuto una partnership con unice con l'ONG americana National Well Life Federation che ci ha consentito di migliorare e di sviluppare una variante dei nostri schemi di certificazione per far sì che nella raccolta dei dati si procedesse a chiedere delle informazioni aggiuntive come per esempio per l'origine brasiliana delle pelli i codici FIF dei macelli le date stesse delle macellazioni quindi tutti elementi che ci hanno consentito di arricchire la nostra raccolta dati e in più abbiamo integrato tutti i requisiti di sistema con l'adozione di una politica di best practice a cui tutta la supply chain ha dovuto aderire ovviamente la supply chain dell'azienda che ci ha chiesto di essere certificati qui siamo nell'ambito appunto di un progetto che si è concluso recentemente e abbiamo già due concerie italiane certificate secondo questi schemi e altre in corso di certificazione i certificati di sostenibilità e di tracciabilità come detto sono tra quelli più richiesti sulla tracciabilità ne abbiamo oltre 60 e veramente abbiamo tantissime aziende che ci stanno ancora chiedendo questo schema ecco tra l'altro un altro schema molto chiesto ultimamente è anche quello della pelle ecologica perché come detto prima c'è lo standard 1.11.427 che è anche certificabile e ultimamente c'era proprio bisogno fame di uno schema che consentisse alle aziende e ai propri prodotti di essere certificati allocando gli impatti ambientali all'articolo stesso che si va a vendere quindi tracciabilità e pelle ecologica sono senz'altro gli schemi più gettonati in questo ultimo periodo la tracciabilità si inserisce in un percorso di sostenibilità di fatti insieme a questo schema se poi la conceria applica anche una certificazione in ambito ambientale a scelta e una certificazione a scelta anche nell'ambito etico sociale come per esempio la ISO 45001 che è la salute e sicurezza piuttosto che il codice di condotta unice l'azienda stessa ottiene un'attestazione I-CEC di sostenibilità quindi questo è molto importante molte aziende hanno fatto questo percorso ad oggi sono quasi una trentina ma sono in crescita e questo è molto importante per noi avere questo marchio che noi rilasciamo per poi valorizzare il settore italiano e le aziende sostenibili anche in un ambito internazionale in tutte le occasioni di promozione anche in quelle che possono essere le occasioni fieristiche l'ultima nota che vorrei dire riguarda il fatto che tutta la supply chain quindi le concerie i terzisti i manifatturieri sono tutti coinvolti nella qualifica di sostenibilità e per tutte queste aziende ci sono delle possibilità di essere qualificati la certificazione non è una cosa soltanto per chi ha tanta disponibilità economica ma veramente ci sono anche dei percorsi e degli schemi semplificati che abbiamo messo in atto anche per favorire chi deve partire da zero e attraverso dei percorsi semplificati accedere alla qualifica di sostenibilità questo per esempio è un percorso che quest'anno abbiamo proposto per esempio ai terzisti delle aziende conciarie abbiamo messo a punto degli schemi di qualifica sulla sostenibilità anche per loro in forma semplificata quindi questo è tutto quanto ICHEK sta facendo e ringrazio ancora l'UNIC che ci dà la possibilità nel tuo report di parlare anche dei nostri aggiornamenti di questo importante tema della certificazione Grazie Sabrina prendo un attimo spunto da quest'ultima slide il QR code che vedete in questo momento sullo schermo vi permette una volta scansionato di consultare o scaricare il nuovo report di sostenibilità di UNIC del 2020 è stato caricato anche sul sito dell'associazione quindi è liberamente consultabile da parte di tutti l'abbiamo ovviamente inviato in primo luogo alle concerie associate UNIC ma ovviamente è un documento pubblico prendo spunto mentre magari appunto gli interessati possono leggere il QR code e scaricare per fare un brevissimo appunto su quanto hanno detto Maurizia e soprattutto Sabrina Frontini di ICEC che è in generale sul ruolo delle certificazioni volontarie un aspetto che è essenziale secondo noi nei rapporti di filiera ma che molto spesso non viene adeguatamente discusso e analizzato ed è il fatto che non dobbiamo dimenticarci che quando parliamo di sostenibilità di una filiera e quindi parliamo della necessità di comunicare gli sforzi di tutta una serie di attori che operano all'interno della filiera verso un obiettivo comune che è la sostenibilità si va a parlare molto spesso giustamente di trasparenza della supply chain molti delle attività tra l'altro anche la pubblicazione di questo report va nella direzione di essere trasparenti su quello che accade all'interno della filiera conciaria che si riferisce all'industria conciaria italiana quindi l'obiettivo è quello è trasparenza ma dobbiamo ricordare anche che nel momento in cui andiamo a discutere valutare come comunicare tutta una serie di dati dobbiamo prendere in considerazione anche il fatto che alcuni di questi dati possono essere considerati come strategici da parte dei singoli operatori della filiera ecco proprio dalla necessità secondo noi di coniugare questa esigenza di trasparenza da una parte ma anche di confidenzialità di alcuni dati strategici per alcuni operatori della filiera secondo noi si inserisce bene il discorso delle certificazioni volontarie soprattutto quelle dice che come sapete come avete visto vanno a intervenire negli aspetti più preponderanti della sostenibilità quando si parla di sostenibilità delle pelli ecco il fatto che una parte terza autonoma e indipendente come Icec possa dare una garanzia di oggettività nella verifica di alcune garanzie di sostenibilità da parte delle concerie nei confronti principalmente dei clienti e degli stakeholders di fidiera per noi è tra virgolette un po' la quadratura del cerchio quindi la possibilità da un lato appunto di dimostrare l'impegno e dare ai clienti e ai consumatori garanzie in termini di sostenibilità ambientale sociale etica le abbiamo viste e dall'altro garantire alle concerie in primis che poi ovviamente è il nostro come dire sono i nostri interlocutori principali soprattutto quando parliamo appunto di comunicazione e promozione della sostenibilità delle concerie italiane la garanzia che questo tipo di informazioni non vengano condivise tut court molto spesso queste informazioni qua potrebbero anche essere utilizzate per mere finalità commerciali e qui invece stiamo parlando di sostenibilità quindi è importante secondo noi l'utilizzo di questi strumenti proprio per coniugare confidenzialità o necessità di confidenzialità da una parte e dall'altra trasparenza della filiera nei confronti dei clienti e dei consumatori finali detto questo vedo che ci sono alcune domande le leggo insieme insieme a voi sono quattro domande e ok sì perfetto allora si possono allora si possono avere benchmark di consumi di risorse in base alla tipologia di concia tipo chi parte dal grezzo ha finito chi da web ha finito chi fa solo concia Fabiana puoi rispondere tu in parte hai già affrontato questo tema quando hai detto che ovviamente i dati del report sono una media ponderata ovviamente del campionamento che è stato effettuato però ovviamente il campionamento ha al proprio interno una forte variabilità di situazioni e di caratteristiche delle aziende che fanno parte del campione stesso esatto rispondo un attimo ad Alfredo allora quello che noi possiamo mettere a disposizione è di fatto un range quindi non è un benchmark inteso proprio come numero ma è un range ragionevole sempre basato appunto sul campione in modo tale che poi un'azienda in funzione della tipologia di processo produttivo si possa andare a collocare questo ce l'abbiamo sui dati 2018 possiamo tranquillamente anche calcolarlo sulla base dei dati 2019 questo sulla base dei dati in particolare di consumo poi quando anche il progetto per l'etichettatura questo non abbiamo parlato ma non ce n'era tempo e modo in questa sessione poi quando anche il lavoro per poi la definizione dei parametri per il made green in Italy arriverà a uno stadio avanzato poi anche in quell'ambito saranno comunque definiti benchmark in funzione della tipologia di processo grazie Fabiana sì sì grazie Fabiana vado avanti con le domande Nicola Spetrone commenta è più un commento che una domanda però credo che possiamo commentare anche noi leggo con voi Salve per quanto riguarda l'impatto ambientale si sta facendo da parte dei brand una guerra a mio parere insensata contro le conce minerale in particolare contro la concia al cromo promuovendo queste conce alternative organiche a questo punto perché non si fa carezza sulle difficoltà di smaltimento dei bagni di concia da parte dei diperatori questa è una domanda assolutamente molto calda molto delicata esatto poi magari se vuoi la riconduco un attimo in binari tecnici allora siamo assolutamente coscienti di questo aspetto e qui sono anche molteplici come dire i temi che si interfacciano innanzitutto c'è come dire una se vogliamo un trend di comunicazione dove la parola senza i free di fatto fa molto rispetto al contenuto purtroppo sulle come dire le conce minerali in particolare le conce al cromo sono state molto demonizzate sul periodo perché di fatto ci si focalizza solo su un unico aspetto ambientale che è quello del non utilizzo del cromo mentre in realtà come giustamente segnalava il dottor Petrone sono molteplici gli aspetti ambientali non ultimo ad esempio gli aspetti della depurazione degli scarichi piuttosto che il fatto e tra l'altro era un aspetto su cui sollevava anche molta attenzione la provincia di Vicenza in un intervento nell'ambito di un altro webinar che si è tenuto qualche giorno fa sul fatto che ad esempio sulle conce alternative non c'è in realtà una chiarezza cioè ci possono essere conce alternative che su alcuni aspetti sono meglio del cromo ma tante anche altre conce alternative tra cui presumo quello a cui faccia riferimento poi il collega nel parlare di difficoltà di smaltimento che in realtà non sono assolutamente più ecologiche di una concia minerale oltre che poi andando a vedere appunto sul recupero dei bagni smaltimento degli scarichi recuperabilità degli scarichi di processo qui un buono strumento come già poi anche citato dalle colleghe però ecco su questo tema poi siamo assolutamente disponibili a qualunque tipo di approfondimento e anche può essere anche la norma proprio sulla pelle ecologica che oltretutto è anche in revisione e la stiamo modificando proprio per far sì che passi il concetto che ecologico è quello che effettivamente nella sua complessità e proprio a livello sistemico abbia un minore impatto sull'ambiente senza focalizzarsi su un unico aspetto ambientale che è quello su cui magari un tipo di concia o un tipo di processo è più favorito o più performante rispetto ad altri ecco la tematica è complessa in breve tempo però tu hai evidenzato secondo me gli aspetti più importanti che in primo luogo è che poi è quello è il come dire è l'aspetto che caratterizza secondo me anche l'approccio che come associazione cerchiamo di portare avanti quando si parla di sostenibilità delle pelli sostenibilità dell'industria conciare che è un un approccio a 360 gradi cioè la sostenibilità deve essere valutata in tutti i suoi aspetti più peculiari di conseguenza se si vuole andare a valutare la maggiore ecocompatibilità di un di una particolare tipologia di concia o di un'altra particolare tipologia di concia sono molteplici gli indicatori gli aspetti da punto di vista ambientale che vanno considerati e correggimi se sbaglio Fabiana al giorno d'oggi non esiste tra virgolette una summa che ci possa permettere di dire in maniera inequivocabile A è meglio di B A sarà meglio di B su alcuni aspetti B sarà meglio di A su altri aspetti quindi attenzione a semplificare il discorso dicendo semplicemente questo è male questo è bene questo è un approccio che noi abbiamo sempre avuto proprio anche per cercare di combattere tra virgolette delle percezioni che poi giocoforza si vanno a creare all'interno della filiera in cui operiamo soprattutto quando parliamo di sospendibilità a maggior ragione quando parliamo di impatto ambientale è bene tenere in considerazione tutti gli aspetti che caratterizzano i vari i vari i vari i vari vado avanti allora ci sono un paio di domande che chiedono se è possibile avere a disposizione la presentazione di oggi allora noi la presentazione ricalca in maniera fedele quelli che sono i contenuti del rapporto quindi è nostra intenzione condividere con tutti i partecipanti al webinar il rapporto stesso se poi ci sono delle esigenze magari di approfondimento su alcuni aspetti mi viene in mente che forse per esempio la parte di certificazione della tracciabilità non è come dire non è specificata non è dettagliata in questo report esattamente come Sabrina ha fatto nel corso della presentazione ma se poi vi rivolgete a ICE che per avere maggiori delucidazioni su queste certificazioni sicuramente ve le daranno Paola del Giudice chiede no scusate sempre le slide Gennaro Pieri chiede se ci sono studi ufficiali che dimostrano o valutano l'impatto delle conce alternative anche qui credo che ci siano ma che valutano alcuni aspetti esatto non totalmente l'impatto non solo qui il come dire il primo problema e la prima chiave interpretativa poi dell'impatto delle cosiddette conce alternative sta nella anche individuazione di queste conce alternative perché c'è una concia al cromo c'è la concia al vegetale ma di conce alternative ce ne sono n per cui sono veramente molteplici le conce che possono essere alternative al cromo ci possono essere le conce alle aldeidi altre tipologie di conce organiche conce alle resine conce miste sono veramente tantissime tipologie e ognuna di queste tipologie ha degli impatti ambientali e degli effetti ambientali che possono non essere sovrapponibili l'una con l'altra per cui ci sono degli ci sono alcuni studi tra l'altro parziali lo strumento metodologico più appropriato in questi casi è l'approccio della life cycle analysis quindi dell'LCA di prodotto però gli elementi come dire un po' limitanti ad oggi sono la mancanza in particolare di alcuni dati primari per cui studi ci sono il problema è che studi fatti su materiali diversi talvolta hanno seguito regole di calcolo diverse e non sono fra loro comparabili il problema grosso adesso non è tanto che manchino dei dati ma è difficile la loro comparabilità perché sono fatti con modelli differenti però ci sono nel senso che qualcuno anche noi nell'ambito di un progetto li abbiamo raccolti però ci siamo proprio scontrati contro la difficoltà di avere una buona base dati per avere una comparabilità e comunque dai dati preliminari che sono emersi è emerso quello che diceva Luca prima ovvero una differente distribuzione degli impatti cioè non c'è nessun tipo di concia che emerge come in assoluto il più ecologico ci sono sistemi di concia che impattano di più sulle acque alcuni sistemi di concia che impattano più sull'indicatore del consumo di risorse minerali alcuni indicatori che impattano più sull'aria sull'eutrofizzazione però di fatto non c'è nessuno che è migliore su tutti quanti gli indicatori del life cycle assessment per esempio ecco io penso anche che questo dibattito che comunque oramai anima il settore da qualche anno sul sul cromo cioè sulla concia al cromo derivi anche in primo luogo dal fatto che comunque è il metodo di concia più diffuso nel settore da parecchi decenni e l'altro è proprio l'aspetto legato a quello che ho appena detto essendo il metodo di concia più diffuso da tanto tempo della concia al cromo scusatemi le espressioni si sa vita morte e miracoli sia in positivo che eventualmente anche in negativo quelle sono le criticità eventuali criticità di questo tipo di processo chimico ma ricordiamo qualsiasi tipo di processo chimico come giustamente ha detto Fabiana ha maggior ragione nel nostro settore ha dei pro e dei contro si parla della concia al cromo perché è quella che è stata utilizzata e che attualmente è quella maggiormente utilizzata ecco scusa Luca mi aggiungo un attimo aggiungo un attimo una considerazione poi vado a rispondere anche a Giacomo Pacchi perché poi è anche correllata poi la leggo la domanda di Giacomo che oltretutto appunto il fatto che la concia al cromo sia ormai anche un processo industrializzato e standardizzato consente di avere anche una mole di dati molto significativa su tutte le altre conce oltre alla variabilità delle conce diverse mancano anche dati ma mancano anche dati perché il calcolo dell'impatto ambientale complessivo del processo non è fatto esclusivamente sulla singola fase di concia una concia differente implica un processo di lavorazione differente l'utilizzo di una chimica anche nelle successive fasi differenti perché bisogna ottenere comunque le medesime prestazioni con delle concianti che danno invece delle come dire prestazioni diverse rispetto al cromo quindi spesso bisogna tamponare e ricostruire nella pelle queste prestazioni che il cromo dà e d'altre conce no utilizzando poi tutta una serie di prodotti chimici aggiuntivi nelle fasi successive per cui la valutazione non è semplicemente e non è solamente come dire compartimentabile alla sola fase di concia e ai soli prodotti concianti va analizzato il processo soprattutto dalla concia in poi in tutto il suo insieme nel complesso e mi permetto una leggerissima fuga in avanti perché quello e magari andando anche leggermente fuori tema quello che abbiamo appena detto è esattamente replicabile quando leggiamo sui giornali di questi nuovi materiali di origine naturale o organica che tra virgolette scimmiottano magari un po' la pelle le caratteristiche della pelle però magari sono fatti appunto con altri elementi naturali insomma adesso molto rapidamente ne abbiamo visti perché insomma il mercato c'è il materiale fatto con gli scarti di mela quello fatto con gli scarti delle vinacce quello fatto con i funghi quello fatto con gli scarti d'ananas tutti materiali nuovi che stanno comparendo sul mercato che utilizzano un marketing e una comunicazione che tra l'altro per certi versi appunto scimmiotta un po' perché si parla di pelle di mela insomma pelle di ananas fortunatamente il decreto di cui abbiamo parlato all'inizio porrà fine a un utilizzo improprio di questi termini ma soprattutto materiali che vengono promossi commercializzati come molto spesso più sostenibili della pelle scimmiottano la pelle ma sono più sostenibili ricordiamo che la pelle è sicuramente un materiale non nuovo è un materiale che l'uomo utilizza da tempo ma proprio perché lo utilizza da tempo ha sviluppato sulla pelle una scienza una tecnologia un'analisi è uno studio degli impatti a livello ambientale che è enormemente più ampia e condivisa rispetto a questi nuovi materiali io rido quando leggo sui giornali questo nuovo materiale che è come la pelle ma è più sostenibile per questo e questo motivo prima di uscire con affermazioni del genere credo che bisognerebbe fare qualche anno di studio sugli veri impatti e sulla vera composizione di questi materiali per poi poter dire a livello comparativo sempre che sia possibile come giustamente diceva Fabiana molto spesso comparare materiali alternativi di questo tipo è estremamente difficile comunque anche nel momento in cui si potrà fare un domani io sono molto curioso di vedere se questi materiali poi supereranno la prova della maggiore sostenibilità rispetto rispetto alla pelle chiudo questa mia scusate fuga in avanti l'ultima domanda fatta da Giacomo Pacchi anche l'aspetto sicurezza dei vari prodotti concianti non è da sottovalutare alcuni concianti alternativi metal free hanno una scheda di sicurezza da far paura è disponibile una panoramica su questo aspetto grazie yes abbiamo fatto una proprio valutando questo aspetto è proprio perché la come dire anche la sicurezza poi dei materiali che diventano poi parte dei beni di consumo è una è un aspetto importante e fondamentale abbiamo fatto una un po' una raccolta di quelle che sono le classificazioni basate in particolare classificazioni laddove esistono armonizzate basate su introduco un paio di elementi tecnici però serve anche per contestualizzare la fonte dei dati quindi delle classificazioni basate sulla classificazione armonizzata dell'allegato sesto del CLB di quelli che sono i principali concianti quindi abbiamo un quadro ad esempio comparativo tra sali di cromo altri concianti minerali glutaraldeide che di fatto a livello quantitativo è l'alternativa al cromo per il per il cosiddetto white o per il cosiddetto metal free più utilizzata più altre due o tre tipologie di concia e dal quadro che ne emerge quindi veramente una semplice tabella anche molto esaustiva da un punto di vista comunicativo quello che si palesa dalla tabella è che alla fine il cromo il sale di cromo sono uno di quelli che hanno il profilo tossicologico meno meno impattante sulla sulla salute adesso faccio una citazione ma giusto perché si decollega un po' anche a una delle domande precedenti sull'impatto dei depuratori ad esempio la glutaraldeide penso che poi anche una di quelle a cui si riferiva per la scheda di sicurezza da paura fosse anche fosse anche quella oltretutto ci sono alcuni concianti alternativi che sono anche classificati come sostanze sensibilizzanti quindi l'aspetto di sicurezza e tossicologico è uno degli aspetti che va assolutamente tenuto in considerazione quando si poi va a valutare non tanto e solo l'ecologicità perdonate lo scioglilingua della di una tipologia di pelle rispetto a un'altra ma anche la sostenibilità valutandola poi veramente in tutta una serie di impatti complessivi anche poi su quello che può essere il benessere e la salute del consumatore però questa tabella c'è Giacomo te la mando perfetto se non ci sono altre domande non mi sembra io chiuderei il webinar siamo andati un po' più lunghi rispetto a quello che volevamo in termini di durata però credo che spero ne sia valsa la pena come vi ho detto manderemo a tutti i partecipanti per mail il nuovo report report che al momento è disponibile in italiano ma a breve sarà disponibile anche come sempre la versione la versione in inglese l'associazione rimane unice rimane a vostra disposizione unice immagino anche Icex Sabrina parlo anche per voi rimaniamo a vostra totale disposizione per qualsiasi tipo di approfondimento e domanda c'è ancora una domanda che mi sembra più una riflessione le concerie italiane europee nonché le maggiori mondiali sono molto attenti all'impianto ambientale ma questo non sembra essere tenuto in considerazione da LWG ringrazio Maurizio Maggione di UNPAC per questo commento sì purtroppo a vedere i numeri delle certificazioni di LWG dell'Eder Working Group le concerie europee non sembrano avere insomma dei come dire dei grandi meriti rispetto alle medie generali questo è stato anche tra virgolette oggetto di un dibattito da parte nostra con LWG noi siamo assolutamente consapevoli dell'eccellenza in termini di sostenibilità delle nostre concerie e continueremo a promuoverle in tutti gli ambiti e su tutti gli aspetti che pensiamo siano assolutamente specifici e pertinenti per parlare di sostenibilità nell'ambito dell'ambito conciario grazie a tutti non vedo non vedo altro perfetto quindi rimaniamo a vostra disposizione come dicevo per ogni ulteriore approfondimento grazie mille arrivederci grazie buona serata grazie buona serata a tutti